E' in programma sabato 19 gennaio alle ore 16 presso il Rollerball di Agropoli, il primo memoria del ricordo di Pietro Bello, scomparso proprio nel giorno della vigilia di Natale dell'anno 2017. Per l'occasione sarà presente il Real Moio e tutti gli amici di Pietro, che vogliono ricordarlo insieme, come a lui sarebbe piaciuto, sul campetto sportivo del Roller, che è stato dedicato alla sua memoria e dove ha giocato tante partite. Nel corso dell'evento sarà consegnata anche una targa ricordo alla famiglia di Pietro e sarà consegnato un trofeo in suo onore ai vincitori del primo memoria. Sportivo, lavoratore e amico di tutti, Pietro è ricordato dalla comunità di Agropoli con grande stima ed affetto, una persona amata da tutti, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto in familiari, amici e conoscenti, sempre con il sorriso disponibile tra la gente. Pietro amava giocare a calcetto, voluto bene da tutti i ragazzi che ha allenato, non solo se distinto per le qualità di tecnico, ma soprattutto per la sua umanità.